No, torno sul discorso bresciano in sospeso. L'altro addetto ai lavori bresciano, oltre a Andrea Berta, è Gianluca Nani. Gianluca Nani è un bel dirigente, un bel direttore, un appassionato di calcio, che ha fatto una carriera importante, anche lui bresciano. Sicuramente tifoso del Brescia, se non ricordo male anche simpatizzante del Milan, ma potrei sbagliare. Però, insomma, anche la trattativa Samarzic è una trattativa che non trova facilitazioni, ecco, la dico aerea, la dico alla lontana, la dico molto, molto, molto così, sulle generali. D'altronde le trattative, ragazzi, noi ci lamentiamo perché l'unico club italiano a cui sono stati chiesti 15 milioni di commissioni è stato il nostro. L'unico club italiano che dovrebbe pagare 35 milioni un giocatore che fra cinque mesi viene via zero è il nostro. Però l'anno scorso sono state trattative saltate per l'intervento del papà, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, il papà di Samarzic è un genitore appassionato e caliente e ha tutto il diritto di esserlo. Per cui, insomma, non sono qui a dare giudizi e a prefigurare scenari. Però, dall'idea che mi sono fatto, ecco, Gianluca Nani, altro bresciano come Andrea Berta, non è che stia proprio così, mettendo i tappeti rossi alla trattativa Samarzic. Come andrà la trattativa Samarzic? Ci sento parlare di Adli, leggo di Pobega, non lo so come andrà, non lo so. Certo è un nome del nostro mercato, però continuo a pensare, continuo a pensare, poi chi mi diceva fra i giornalisti che seguono il mercato guarda che il monocompo stizzito, forse aveva un po' ragione, però, insomma, non è che... perché qui essere stizziti o non stizziti, cari signori, cari ragazzi, cari minanisti, non è una questione che tu ti comporti male, è sempre solo una questione di soldi. Io so di essere cinico e crudo, ma è sempre una questione di soldi, non è che l'Atletico Madrid sarebbe stizzito perché tu ti sei comportato male, no, sarebbe stizzito perché visto che gli porti via Morata e visto che quella clausola era attaccabile, beh dai pagami 16 invece di 13 e tu invece paghi 13, quindi è una questione di soldi, non di buone maniere di rapporti o di comportamenti, è una questione di soldi, per cui il Monaco dice, eh ma che Frem Thuram è andato via a 20 milioni, ho capito, però qui stiamo parlando, ripeto, non di Thuram ma di Fofanà, io capisco che il Monaco voglia tenere il suo status rispetto al Nizza, c'è grande rivalità peraltro, Monaco-Nizza è il derby della Costa Azzurra, attraverso derby, derby, derby.it me ne sono occupato spesso, so quanto si alta la rivalità da questo punto di vista, però anche fra Juventus e Roma c'è rivalità, però Chiesa sarebbe andato a 20 milioni alla Roma, Chiesa è più forte di Fofanà, Fofanà è più forte di Chiesa, non lo so, ruoli diversi, situazioni diverse, non si fanno paragoni, però 35 milioni mi sa tanto di un gioco delle parti, di un voler dare le carte il Monaco dal punto di vista economico e non lasciare che la scadenza fra un anno del contratto di Fofanà prenda troppo campo rispetto ai desiderati del Monaco. Quindi soldi e giochi delle parti, vedremo nel prossimo weekend se i soldi e i giochi delle parti saranno più forti rispetto magari così a una volontà del giocatore o a una fluidità delle cose, lo vedremo. Anche su Samarzic, non è che Gianluca Nani mette i bastoni fra le ruote, mancherebbe altro, cari saluti a Gianluca Nani, massimo rispetto, massimo affetto, e lui lo sa. Però diciamo che l'Udinese tiene il suo punto, tiene il suo punto che è un punto economico, perché tu se punti a fare Samarzic dopo aver fatto una cessione allora puoi avere qualche margine in più, ma senza fare cessioni come in questo momento è, perché in questo momento offerte e trattative per i giocatori del Milan in uscita non ce ne sono, se tu vuoi fare Samarzic senza uscita dobbiamo parlarci, e se dobbiamo parlarci dobbiamo essere in due a parlarci. E quindi vedremo come andrà a finire. Milan che va alla tournée americana, le partite sono toste, le partite sono importanti, Real Madrid, Manchester City, Barcellona, l'anno scorso abbiamo avuto Real Madrid, Juventus, Barcellona, quest'anno Real Madrid, Manchester City, Barcellona, insomma sempre tre grandissime squadre. L'anno scorso tre grandissime squadre quest'anno. Io l'aspetto questa tournée americana, perché l'anno scorso a luglio avevo già avuto la sensazione, subito a luglio, che eravamo una squadra che prendeva troppi gol, che imbarcava troppo acqua. Poi, quelli siamo rimasti, Stefano Pioli ha lavorato sulle migliori caratteristiche della squadra, quelle offensive infatti abbiamo fatto 99 gol, sui meccanismi difensivi, un po' per caratteristiche, un po' in generale abbiamo fatto più fatica a lavorare. Quest'anno, quest'anno, speriamo che le indicazioni siano diverse, perché al di là del mercato, al di là delle trattative Pavlovich, al di là delle trattative Emerson Royale, al di là delle trattative Fofanà, la sensazione che mi è rimasta a Vienna è che qualche errore di distrazione dei singoli sia rimasto. E quindi, ragazzi, dobbiamo metterci in testa che non è che dietro, vabbè, tanto poi davanti fanno gol. No! Dobbiamo mettere dei picchetti dietro. E perché dietro, quando ci attaccano gli altri in velocità, dobbiamo essere più reattivi, dobbiamo essere più bravi. E quindi, l'anno scorso, credo che nelle tre partite americane, abbiamo preso sei gol, meglio di due gol a partita. Gli avversari sono tremebondi, sono di quelli che ti fanno tremare le vene i polsi, Real, Manchester, City e Barcellona. Però, se si riuscisse a prendere qualche gol in meno, poi spero che, spero che le ventate delle partite e le raffiche delle partite non mi smentiscano. Però, ecco, vediamo, vediamo quello che, vediamo quello che succede. Perché l'anno scorso, poi, dopo la tournée americana, abbiamo messo nel motore Ocafori e Ciunqueze, mentre Rinders, Pulisic e Loftus erano già in tournée. Quest'anno, diciamo di nuovo in tournée non ne abbiamo. Quindi, anche se dovessimo prendere gli stessi gol o qualche gol in più, poi, i nuovi arrivano dopo. Quindi l'identità vera te la costruisci e te la fai dopo. Vedremo, vedremo quello che accadrà. Ha parlato Gerry Cardinale, ha parlato di visione e strategia, ma il proprietario parla di visione e strategia. Io sono convinto che anche il nostro proprietario voglia vedere i migliori frutti possibili dal nostro mercato. Solo che il mercato è delegato a Zlatan Ibrahimovic, a Giorgio Furlani, a Geoffrey Moncada. Sono loro i nostri uomini di mercato. Il proprietario è costantemente aggiornato quotidianamente sul nostro mercato, però poi la responsabilità di far quadrare i conti economici e i conti tecnici è delegata al team di qui sopra. Quindi, anche il proprietario è in attesa, rispettoso delle idee e quello che ha dato parla di visioni e strategie che sono quelle che gli competono e naturalmente gli competterà poi anche alla fine della prossima stagione una valutazione complessiva su come sarà andata quest'anno, questa stagione che sta iniziando, che è iniziata e che noi vogliamo far andare nel migliore dei modi possibili. A partire dai nostri uomini di mercato, dice, ho letto una dichiarazione in questi giorni, Malesani, Malesani ha detto si vede che quando Ibra parla colpisce. è vero, sono stato anch'io diretto destinatario colpito in maniera positiva e in maniera costruttiva il giorno dell'aduno all'8 luglio quindi sottoscrivo le dichiarazioni Malesani. A domani.